La vincente storia del Titanic, raccontata come mai prima. La nave più maestosa della storia, un mito senza tempo. Titanic, The Artifact Exhibition. Per la prima volta in assoluto in Italia, la mostra che ha commosso il mondo. Con pezzi e oggetti autentici, della nave dei sogni. Promotrice delle belle arti Torino. Biglietti in vendita con Ticket One. Titanic, The Artifact Exhibition. Radio GRP, media partner dell'evento.